I diritti dell'infanzia. Di questo si è parlato domenica 22 novembre a più occhi. Un argomento proposto dalla conduttrice Cristina Bosco-Locchio, che ha avuto come ospiti della trasmissione il dottor Mattia Debei, membro del tavolo regionale di Welfare per i minori, nonché responsabile della comunità familiare Acqua di Siloe di Chioggia, la dottoressa Alessia Zennaro, educatrice presso la comunità Impatto, impegnata nell'area del disagio minorile della cooperativa sociale Titoli Minori e che collabora con il Ministero di Grazia e Giustizia Minorile e di collegamento telefonico la dottoressa Paola Scalari, psicologa esperta nei problemi dell'adolescenza. Tutti i grandi sono stati bambini, una volta, ma pochi se ne ricordano, tratto dal libro del piccolo principe. Una puntata interamente dedicata per parlare dei diritti dell'infanzia ed un'occasione per conoscere da vicino che cos'è la dichiarazione dei diritti, chi sono gli attori coinvolti, come sono cambiate le dinamiche delle famiglie relative ai bisogni dei bambini e adolescenti, oltre ad avere consigli utili per un migliore rapporto tra genitori e figli. Alessia, come possiamo spiegare ai bambini di oggi e ai ragazzi che hanno dei diritti? Beh, io credo Cristina che il modo migliore per spiegare ai ragazzi i loro diritti siano proprio i nostri gesti più concreti, quindi la vicinanza, la presenza, l'ascolto di quello di cui loro hanno bisogno, trasparenza, accompagnamento, vicinanza e soprattutto rispetto. Mattia, tu siedi al tavolo regionale di Unwelfare per i minori, di cosa si tratta e chi è il garante dell'infanzia? Il tavolo Unwelfare per i minori è un luogo di confronto, di raccordo tra soggetti della regione Veneto, impegnati a vario titolo con i bambini e le bambine del nostro territorio. Un modo per portare avanti il tema dei diritti anche durante il corso dell'anno, oltre il 20 novembre, che è la giornata mondiale, internazionale dei diritti dell'infanzia. Il garante è una figura istituzionale che dovrebbe facilitare l'attuazione dei principi della Convenzione del 1989. Spesso ci si preoccupa di ciò che un bambino diventerà domani, ma ci si dimentica che lui è qualcuno oggi.